Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Ragazzi, torniamo a parlare di Juventus e lo facciamo tornando a parlare di Massimiliano Allegri perché la Juventus deve probabilmente ripartire da Massimiliano Allegri nonostante le insistenti voce dall'Arabia Saudita, però il tecnico Leo Vornezze sembra aver rifiutato anche se non è uscita una notizia ufficiale in merito, ma sembra aver rifiutato le proposte arabe e quindi si ripartirà da Massimiliano Allegri a conferma di questo. Nella giornata di ieri abbiamo avuto una prova certificata di un meeting fra Manna, la dirigenza Juventus e lo stesso Massimiliano Allegri, quindi il tecnico avrebbe incontrato la dirigenza bianconera a Milano a pranzo in un ristorante per parlare delle possibili trattative di mercato in previsione del calcio al mercato estivo. Quindi la Juventus possiamo certificarlo all'interno di questo video per adesso ovviamente perché il mercato è lungo e nebuloso ma la Juventus nella stagione 23-24 al 99% ripartirà da Massimiliano Allegri. Lo aveva già confermato l'amministratore delegato Scanavino, poi erano arrivate le insistenti voci dall'Arabia Saudita ma ripeto anche senza essere appunto stato ufficializzato un suo rifiuto questo meeting è comunque la prova certificata che Allegri abbia rifiutato, abbia deciso di non accettare la proposta della Lilalla perché altrimenti non ci sarebbe stato questo meeting, ci sarebbe stato ben altro meeting con la dirigenza bianconera magari per lavorare alla proposta di addio ecco quindi abbiamo avuto prove da Sky Sport, da Giovanni Albonese, Gazzetta dello Sport abbiamo avuto delle prove che praticamente certificano questo incontro e certificano anche gli argomenti di cui appunto si è parlato in questo meeting di mercato quindi c'è stato comunque già il direttore sportivo Giovanni Manna operativo sul mercato si è parlato di possibili rinforzi ma anche di possibili cessioni e all'interno di questo video proviamo un pochettino a tracciare un pochettino la linea su quello che potrebbe essere l'inizio del mercato della Juventus perché comunque sul tavolo del nuovo dirigente bianconero promosso dalla Next Gen alla prima squadra ossia Giovanni Manna ci sono delle trattative di mercato che porterebbero a delle cessioni importanti Dejan Kulusevski in pole position ma anche Dusan Vlavic forse lo stesso Federico Chiesa ma quindi ci sono anche allo stesso tempo delle news interessanti per quanto riguarda gli uomini in entrata, i giocatori in entrata quindi secondo le ultime notizie di mercato il tecnico e il direttore sportivo avrebbero parlato di Kulibali di Milinkovic Savic e di Zaniolo ovviamente tre trattative molto molto complicate ma si è parlato, si è provato già a lavorare da questo punto di vista per quanto riguarda Milinkovic Savic ovviamente la Juventus sta seguendo Savic, centrocambista serbo della Lazio classe 95 un giocatore che piace ormai da tanto tempo allo stesso Massimo Dallegri la Juventus potrebbe offrire come contropartita alla Lazio Arthur, centrocambista brasiliano classe 96, reduce dal prestito dal Liverpool dove ha fatto male, ha giocato pochissimo, una sola presenza praticamente in Champions League contro il Napoli tra l'altro alla Maradona Arthur deve riprendersi da un punto di vista fisico da questa stagione assolutamente fallimentare la Juventus invece vuole accaparrarsi Milinkovic Savic che praticamente sembra voler dire finalmente addio alla Lazio già da qualche anno lui aveva provato a lasciare il club laziale non c'era riuscito, aveva mantenuto saldo il suo posto lì al centrocampo di Sarri però adesso è arrivato il momento forse di intraprendere una nuova avventura la Lazio di risposta ha provato a mostrare interesse per Niccolò Rovella classe 2001 della Juventus proveniente dalla Monza dove quest'anno ha fatto grandissime cose ma la Juventus considera Rovella praticamente incedibile lo considera l'alter ego perfetto davanti alla difesa di Locatelli quindi per la Juventus in questo momento Rovella è incedibile sta provando magari a piazzare Arthur alla Lazio per magari prendere Milinkovic Savic questo perché frattesi del Sassuolo che era fino a qualche giorno fa in pole position per la Juventus è praticamente diventato l'obiettivo numero uno dell'Inter quindi l'Inter ha sorpassato la Juventus nella corsa alla centrocampista del Sassuolo mentre invece la Juventus sembra volersi muovere di risposta su Milinkovic Savic che è più un centrocampista per Allegri rispetto a Frattesi che è un centrocampista di qualità, è un centrocampista diverso, più mobile, più giovane tra l'altro rispetto a quello della Lazio ma è più un giocatore effettivamente da Allegri Milinkovic Savic e poi abbiamo il nome di Koulibaly perché sì, Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter sarebbe pronto ad andare a Londra per parlare con il Chelsea non solo di Lukaku ma anche dello stesso Koulibaly e il difensore sembra però finito nelle grazie anche della Juventus sicuramente la sua stagione con tanti ombre al Chelsea rende comunque più facile il tutto lo stesso Koulibaly sembra più disponibile a lasciare il Chelsea dopo una stagione comunque per lui molto molto complicata e quindi l'opportunità Koulibaly attizza anche l'interesse della Juventus che quindi potrebbe magari fare un'offerta di prestito per il difensore ex Napoli i nerazzui però vogliono cercare di anticipare la Juventus da questo punto di vista e quindi vedremo, Koulibaly sicuramente in questo momento è un nome che piace ma forse l'Inter in questo momento è in vantaggio sul senegalese ex Napoli sicuramente è un giocatore molto più facile da prendere rispetto ad altri profili per quanto riguarda la linea difensiva la Juventus ha bisogno di un difensore centrale perché comunque Bonucci non è più il Bonucci di una volta è Rugani un difensore più out dalla Juventus che in e quindi rimangono solamente Bremer e Gatti chiaramente c'è bisogno di un rinforzo di un terzo difensore all'altezza questo nome potrebbe essere proprio quello di Koulibaly e poi abbiamo il nome di Zaniolo Zaniolo che la Juventus non ha mai nascosto il suo interesse per l'ex Roma è un giocatore che alla Juventus è sempre piaciuto ha una clausola di recissione dalla Galatasaray molto alta 35 milioni di euro ma la Juventus potrebbe accaparrarselo anche per una cifra minore sui 20 milioni perché il Galatasaray comunque non metterebbe il bastone fra le ruote all'ex centrocampista della Roma quindi anche lo stesso Zaniolo sarebbe intenzionato di un ritorno in Italia e quindi tutte queste combinazioni da questo punto di vista sembrerebbero comunque dire a Galatasaray di non pretendere con una cifra così elevata come quella della clausola la stessa Juventus vorrebbe proporre delle contropartite si era parlato non solo di Alexandro ma anche di Denis Zakaria e quindi due giocatori che magari potrebbero far piacere al Galatasaray che è un giocatore in uscita dalla Juventus seppur abbia rinnovato il contratto in maniera automatica grazie alla clausola in questa stagione e Zakaria è un giocatore di ritorno dal Chelsea dove ha fatto male a Londra e quindi sicuramente ha bisogno di un rilancio Zakaria al Galatasaray oppure Alexandro sarebbero utili per abbassare il costo di 20 milioni del cartellino di Zaniolo Zaniolo che sicuramente sarebbe un giocatore ideale per andare a sostituire Di Maria che ha lasciato a parametro zero la società della Juventus quindi abbiamo questi nomi sul mercato per quanto riguarda i tersini si lavora ma qui è più uno dei nomi di sfuggita si lavora magari a Lucas Vazquez del Real Madrid un giocatore che verrebbe preso a cifre molto contenute in quanto lui è un giocatore che andrà in scadenza di contratto l'anno prossimo e poi non è un titolarissimo del Real Madrid quindi questi sono più o meno i nomi di cui si è parlato Quadrado si sta valutando magari se o non fare una proposta di rinnovo per il colombiano quindi tanto lavoro da fare e quindi si spera che la Juventus si muova sul mercato perché la stagione comunque di calciomercato deve già entrare nel vivo c'è tanto lavoro da fare forse la Juventus è già partita in ritardo da questo punto di vista stiamo parlando di tante cose da fare e forse la vicenda Allegri all'Illal oppure la vicenda Giuntoli-Juventus ha un pochettino rallentato le tempistiche della Juventus quindi spero che si lavori già a pieno regime che si parta a bomba sul mercato perché ci sono tante cose da fare e ovviamente spero che non partano tanti giocatori che invece sembrano in questo momento essere sul piede di partenza quindi spero che non partano Chiesa, Vlaovic e magari anche qualche altro ragazzo però sicuramente in questo momento la permanenza di Allegri significa anche fuga di alcuni giocatori sul mercato la fuga magari dello stesso Vlaovic la fuga magari di Federico Chiesa che non è mai entrato nelle grazie del tecnico Livornese quindi sicuramente è un qualcosa di grave da questo punto di vista pensare solo, anche solo pensare a queste cessioni e magari quindi vedremo come la Juventus andrà a rimpiazzare il tutto sul mercato ragazzi questo era il video più o meno dell'incontro che c'è stato ieri fra la Juventus e la dirigenza appunto insieme a Massimo e Allegri quindi vedremo quali saranno poi effettivamente le mosse sul mercato e nel caso le andremo a commentare con un video nello specifico ragazzi mettete like se il suo video è piaciuto iscrivetevi a questo canale se non vete perdere nessun altro aggiornamento sui miei video futuri ragazzi vi saluto ciao a tutti da Domenica Versa ciao a tutti raga